Ciao a tutti ragazzi, come sempre prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che ogni lunedì facciamo una nuova giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille ragazzi, adesso cominciamo con il video. Ragazzi oggi vi parleremo di qualcosa di grosso, vi spiegherò cosa vogliamo vedere adesso per iniziare ad acquistare enormi qualità di bitcoin e quello che stiamo anche vedendo. Ora nello spazio delle criptovalute non è come sembra perché stiamo vedendo delle belle candele verdi adesso ma siamo ad un punto molto chiave ed ho bisogno di sottolineare anche un livello specifico molto importante. E quindi ragazzi restate con noi perché vi mostreremo anche alcuni dati on chain e che dovete sapere adesso, vi mostreremo anche cosa dovete prestare attenzione sia per quanto riguarda ovviamente il lungo termine ma anche per quanto riguarda il breve termine. E quindi ragazzi come sempre bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano video riguardo le cripto ogni giorno, mostrano come fare sono in questo mercato. E se non siete iscritti potreste considerare le descrizioni dietro anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico. E sono passate un paio di settimane, forse un mese dal crollo di luna, sono passate forse anche una o due settimane da quando Cessi si è sceso ed è passata forse una settimana dal fatto di Triaro Capital. E quindi forse adesso abbiamo visto almeno una buona parte del contagio di fatti che sono accaduti dietro le quinte e ora penso ancora che vedremo altre aziende che andranno a dichiarare la bancarotta o qualcosa del genere. Ma la domanda adesso è questa, abbiamo già visto il peggio? Perché come sapete ragazzi stiamo aspettando che la polvere si depositi prima di entrare in grandi trades in Bitcoin perché penso che ci saranno più aziende che andranno a dichiarare di avere problemi o bancarotta insomma. Quindi ancora una volta la domanda è questa, il peggio è finito oppure vedremo altri problemi enormi nel mercato? Quindi voglio mostrarvi il grafico da 4 ore adesso perché nel grafico da 4 ore possiamo dire che abbiamo incontrato un buon supporto in una zona veramente veramente importante per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin, ovvero questa fascia arancione qui e quindi questo è un livello importante per Bitcoin perché sono i 20.000 dollari, infatti come sapete storicamente non siamo mai scesi e abbiamo chiuso al di sotto del precedente massimo storico rispetto al ciclo precedente e come sapete però adesso l'abbiamo fatto, abbiamo visto un paio di Bitcoin andare da 4 ore e chiudere in realtà verso i 18.000 dollari ma da allora abbiamo visto un bel rally e stiamo incontrando un supporto al di sopra del precedente massimo storico. Ma possiamo fidarci di questa spinta verso l'alto dal punto di vista tecnico? Bene, ci sono un paio di cose che voglio vedere prima di fidarmi di questo livello tecnico, quindi il primo è che dobbiamo arrivare verso i 22.500 dollari senza troppi problemi e questo perché abbiamo la seconda fascia arancione a questo livello di prezzo e questo è il precedente punto minimo e quindi questo livello è quello che dobbiamo superare e se riusciamo a farlo andremo almeno a rompere la tendenza a fare i massimi più bassi perché quello che possiamo vedere adesso è che abbiamo fatto troppi massimi più bassi consecutivi e in effetti potremmo anche trovarci in una formazione a triangolo in questa zona. In realtà possiamo anche provare a tracciare direttamente il triangolo per tenere anche sotto controllo questo schema e quindi per adesso insomma stiamo sicuramente facendo trading all'interno di questa formazione e se dovessimo vedere un breakout a rialzo allora forse potremmo raggiungere il livello dei 22.500 dollari ma questa è una grande resistenza ragazzi anche se siamo molto vicini a questo livello dobbiamo stare molto attenti perché se dovessimo invece vedere un altro lato negativo allora il livello dei 20.000 dollari verso il basso andrà ad agire da supporto ovviamente e poi abbiamo anche il livello ovviamente dei 18.000 dollari e quindi fate attenzione a questo e inoltre un altro motivo per cui il livello dei 22.500 è importante perché abbiamo la nostra media immobili nel grafico settimanale e quindi voglio mostrarvi che questo livello adesso è a 22.500 circa proprio in questa zona e questo è un supporto storico per Bitcoin e forse adesso sarà invece una resistenza storica perché in realtà non abbiamo mai trascorso molto tempo al di sotto di questo livello e quindi questa sarà la prima volta che vediamo questo livello dal lato negativo e incontriamo questa media mobile come resistenza quindi sarà davvero molto interessante vedere come agirà il mercato in questa situazione e quindi in altre parole dobbiamo assolutamente superare il livello dei 22.500 dollari e dopo cercheremo di posizionarci in dei bay trades in Bitcoin e ovviamente li mostreremo anche nel canale come sempre ragazzi inoltre la piattaforma di trading che stiamo usando è come sempre sono sia Bybit che Femex e come sempre ragazzi potete richiedere dei bonus su entrambe queste piattaforme avete fino a 4.580 dollari su Bybit il link è in descrizione e avete anche fino a 4.500 dollari su Femex quindi potete usare il link in descrizione se volete utilizzarli e inoltre ragazzi adesso voglio parlarvi anche riguardo i mercati tradizionali perché per adesso per quanto riguarda questo oggi forse questa settimana sembrano promettenti abbiamo visto dei minimi più alti consecutivi e stiamo cercando di spingere verso il livello dei 3.000 dollari e 850 circa e quindi questa è una grande resistenza per l'SP500 e dobbiamo solo aspettare e vedere appunto se saremo in grado di superare questo livello nei prossimi giorni oppure no i mercati dei futures sono aperti adesso e quindi vedremo come agirà il mercato oggi e avranno anche i mercati normali questo pomeriggio domani saranno chiusi quindi vedremo come chiuderà la settimana altrimenti domenica sera potremo avere un abbastanza slancio per superare questo livello verso l'alto quindi stiamo controllando questo fatto e tutto adesso sembra che punti ad una struttura dove abbiamo trovato il fondo questo è anche quello che vi ho detto di recente tutto quanto punta verso un fondo l'unica domanda è se abbiamo già toccato il fondo o andremo un po' più in basso ma tutto adesso indica che siamo molto vicini al punto più basso ma abbiamo anche dei fattori X come il crollo di Luna il crollo di Celsius il crollo di Triaro Capital e così via e se questo avrà un effetto ancora più grande sui mercati delle criptovalute proprio come vi dicevo forse abbiamo già visto il peggio oppure forse il peggio deve ancora venire ma questo è ancora qualcosa a cui dobbiamo assolutamente prestare attenzione in questo periodo ma su questo grafico per esempio possiamo vedere anche dei dati molto molto importanti che dobbiamo controllare e possiamo vedere che per esempio nel grafico mensile nell'RSI in basso abbiamo l'RSI ma abbiamo anche l'indice della paura e dell'abilità e quando abbiamo raggiunto questo livello nell'RSI nel grafico mensile questo è il livello dove il prezzo è iper venduto e possiamo vedere che questo livello va anche segnato al fondo e anche l'indice di paura e dell'abilità è ad un livello molto basso sempre nel grafico mensile possiamo vedere anche nel caso successivo questo è al fondo nell'RSI e possiamo vedere che l'indice di paura e dell'abilità inoltre abbiamo anche la media mobile da 200 settimane che è sempre il livello molto molto importante a cui dobbiamo prestare attenzione ma dove ci troviamo adesso? bene per esempio nell'RSI siamo allo stesso livello basso che abbiamo colpito in passato e che ha segnato il fondo in passato e abbiamo anche l'indice di paura e dell'abilità ad un livello molto basso ovviamente abbiamo anche la media mobile da 200 settimane in questa zona quindi questo è qualcosa a cui stiamo prestando attenzione inoltre abbiamo il NOPOL il net unrealized profit and loss di Bitcoin e possiamo vedere che siamo entrati nella fase di capitulation e quindi se andiamo ad ingrandire il tutto per esempio possiamo vedere che la linea adesso sta cominciando a diventare rosa siamo entrati nel capitulation in questa metrica on-chain e possiamo vedere che adesso questo ha sempre segnato il fondo però come ogni metrica di cui abbiamo parlato finora questo può ancora andare un po' più in basso infatti possiamo vedere che nel 2018 per esempio siamo andati un po' più in basso o decisamente più in basso dove siamo adesso e sicuramente anche nel 2015 ci siamo andati decisamente più in basso ma vi sto solo dicendo che tutto quanto indica che siamo nelle vicinanze insomma del fondo adesso quindi siamo in prossimità del fondo oppure abbiamo già raggiunto il punto più basso ma fate di questo ciò che volete questo non è un consiglio finanziario ovviamente ma inizieremo presto a cercare di posizionarci in alcuni Baytrades in Bitcoin una volta che vedremo dati migliori adesso stop un attimo il video e vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti pensate che andremo più in basso del livello dei 17.500$ oppure no fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Bar Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto per chiedere basta inviare il portafoglio una volta soltanto anche se rispondete a più video e più domande e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi ragazzi buona fortuna a tutti adesso continuiamo con il video infine ragazzi un'altra cosa di cui voglio parlare oggi è la liquidità invece negli order book e possiamo dire appunto che stiamo vedendo un bel volume dove siamo adesso su questi ordini di acquisto e tra l'altro voglio anche mostrarvi un fatto importante ovvero che abbiamo un'enorme liquidità proprio intorno al livello dei 20.000$ e 740 possiamo dire che abbiamo circa 200 beacon che girano avanti e indietro in questa zona inoltre ne abbiamo altri beacon per esempio ne abbiamo 76 da una parte ne abbiamo 78 ad un altro livello quindi in questa zona generale abbiamo forse circa 500 o 750 beacon in totale e questo andrà a supportare il prezzo se dovessimo scendere di nuovo abbiamo una grande richiesta di acquisto a questi livelli e quindi stiamo prestando attenzione a questo e vedremo quindi se il livello di 20.000$ andrà a reggere o meno ma possiamo capire e vedere anche che ci sono molti acquirenti che stanno comprando in questa zona generale e quindi continueremo a mostrare anche la liquidità usando Bookmark che è questa piattaforma e se volete utilizzarlo voi stessi avete anche il link in descrizione quindi potete controllarlo se volete e questo qua ragazzi è quello che ho per voi per quanto riguarda questo video grazie mille come sempre per la visione e come sempre ci vediamo nel prossimo ciao a tutti